E lo dimostra il calore e l'affetto di tanta gente che fino a tarda ora è rimasta qui con noi Grazie anche a voi, complimenti veramente, la serata è stata stupenda Quindi da parte mia do la buonanotte, ringrazio ancora Deborah Felli per la serata Io ringrazio Giuseppe Silicato e qui voglio un grande applauso, l'ultimo vi prego Forte e scrosciante per Giuseppe Silicato Grazie, ringrazio tutto lo staff, il service, tutti gli ospiti Grazie e buonanotte Non spegniamo le luci e le foto per il nostro magazine